Purtroppo in questo momento non ho la possibilità di usufruire della macchina da presa pertanto dovrò registrare una tantum dal telefono Re per una notte è sicuramente un'opera eccezionale anzitutto perché a fine agendere prediligo all'intrattenimento è capace di destare l'attenzione dello spettatore dal suo primo minuto al suo ultimo sussulto in tal senso viene mantenuto un tono ilare e costante che esplode grazie alla figura di Robert De Niro qui caratterista più che mai un deniro loquacissimo fastidioso per i suoi interlocutori così interessante per gli spettatori un deniro logorroico l'opera è un flusso ininterrompibile in continuo divenire non dotata come la maggior parte delle opere discorsate di un inizio e di uno sviluppo ben delineato ma di un finale in questo caso distinguibile come un finale impattante un finale deciso che osa differente da quelli tipici del regista un finale che manda un messaggio una critica sociale mass media una critica potente nei confronti del sistema corrotto che caratterizza l'industria dello spettacolo e quindi accorre una volta rappresentazione delle complessità di tutto ciò che ruota intorno al capitale evidentemente al capitale americano in particolar modo e a ciò che viene finanziato con quest'ultimo dalle grandi multinazionali dalle grandi agenzie e grandi organizzazioni un'opera perfetta che si spezza tra scene d'azione quasi surreali eppure profondamente realistiche ed altre invece più quotidiane e sebbene come dicevo al centro non bisia la quotidianità del protagonista ma un unico suo desiderio e ciò che ruota intorno a quest'ultimo il prender parte ad un late show quindi molto distante dalla filmografia tipica di Scorsese poiché per l'appunto riprende un momento ben preciso senza tracciare le trappe fondamentali della vita del protagonista senza focalizzarsi sui suoi rituali quotidiani oltre a ciò perfetta anche la macchina da presa statica ma funzionale ottima la fotografia colorata ottima la messa in scena la scenografia scarna eppure efficacissima spettacolari iconiche le frasi un film boicottato o per meglio dire dimenticato senza grande successo a Botteghina privata della sua natura di commedia quindi appartenente a un genere che purtroppo viene considerato erroneamente inferiore cos'altro aggiungere buone anche le interpretazioni degli altri attori senza ombra di dubbio sebbene spicchi quella di Danilo è quasi cancelli quella degli atti per la sua potenza questo è quanto questo è per una notte un film magnifico che dovete recuperare a tutti i costi un'opera incredibile che secondo me avrebbe dovuto fare molto di più di quanto è accaduto la storia del cinema la storia del cinema la storia del cinema